Un'autoambulanza del servizio di emergenza all'ospedale di Popoli sequestrata dalle forze dell'ordine per i troppi chilometri percorsi, il tutto nel silenzio delle istituzioni. E quanto denunciano il capogruppo di Forza Italia, la Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri e il consigliere comunale di Popoli, Mario Lattanzio, secondo i quali, per sopperire all'assenza e non rischiare una denuncia per interruzione di pubblico servizio, la Direzione Generale dell'Asle di Pescara ha affidato la copertura del servizio d'emergenza alla Croce Rossa di Popoli, un soggetto esterno, lasciando così senza occupazione sette autisti del 118, che appunto si occupavano dell'emergenza. Per Sospiri e Lattanzio si tratta di uno scandalo che testimonia l'abbandono in cui versa l'ospedale di Popoli, nonostante quella moratoria per i presidi all'interno del cradere sismico prevista dal decreto Lorenzin, che ha fatto slittare la paventata chiusura del nosocomio. Più nel dettaglio, spiegano, l'ospedale civile di Popoli è dotato di due autombulanze, un mezzo di istituto che si occupa dei trasporti ordinari da un nosocomio all'altro nell'ambito territoriale, l'autombulanza medicalizzata d'emergenza, gestita dal servizio recente 18, attrezzata per trasportare cassi gravi, cosiddetti codici rossi, dunque infartuati, utenti colpiti da ischemia e aneurisma o vittime di gravi incidenti nell'ospedale di riferimento di Pescara.